Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Valdarne e Arezzo in direzione di Roma. Sulla Firenze Mare, code per traffico verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e Bivio 11 a 1. Ci spostiamo in Fipili dove troviamo rallentamenti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandici, ancora una volta verso Firenze. Per le statali sull'Aurelia, rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio Sarzana, statale 446 di Fos di Novo, nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che sono in programma in settimana alcuni interventi nell'ambito della riorganizzazione della viabilità dopo la messa in esercizio della linea T1 Leonardo. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!